ciao a tutti benvenuti nel mio canale visto che incomincia a fare un po di caldo ho pensato di preparare le zucchine alla poverella gli ingredienti sono molto semplici ora ve li elenco gli ingredienti per fare la zucchina la poverella è solamente zucchina e olio di simili girasole per friggere naturalmente io già ho incominciato ad affettarla deve essere sottile così e adesso la facciamo asciugare le ho messo un canovaccio sotto e domani mattina le friggerò ho appena finito di tagliare le zucchine vi svelo un segreto più asciuga e meglio viene la zucchina quando la freggete diventa più croccante che sembreranno delle patatine di zucchina le zucchine si sono ben asciutte vedete un po come sono asciutte ora mettiamo un tegame l'olio facciamolo arrivare a 180 gradi e cominciamo a friggere le nostre zucchine ho messo l'olio nel tegame ho acceso la fiamma non troppo alta e aspettiamo che arriva a 180 gradi e incominciamo a friggere le nostre zucchine l'olio è pronto incominciamo a mettere le nostre zucchine ecco fatto mi raccomando non fate cuocere tanto altrimenti si bruciano e diventano un po amare la zucchina è quasi pronta vedete adesso la possiamo togliere la zucchina alla poverella è pronta adesso la dobbiamo condire si mette un po di aglio io uso sempre quello frizzato ma si mette quello fresco mettiamo un po di sale la menta ce l'ho nel mio balcone ed è freschissima col profumo vi garantisco è stupendo e mettiamo un po di aceto ora la mescoliamo e la facciamo riposare un po in modo che si insaporisce tutta la zucchina adesso mescolato la zucchina alla poverella spero che anche questo video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale cucina insieme il via ciao 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 ciao